e ciao a tutti e bentornati su the witcher 3 sulle memorie di raziel non tocco questo gioco da più o meno mesi praticamente è passato quasi un anno dalla sua uscita e niente è sempre giovane geralt così anche se ha la barba bianca e nulla volevo ricominciare questa serie perché volevo incentrare prima di tutto il canale su questa serie poi l'ho persa perché ho deciso di giocarla a livello super difficile infatti se non erro si chiama marcia della morte e poi l'ho abbandonata perché non riuscivo a starci dietro per motivi di lavoro eccetera adesso possiamo dire che sto ho assunto una ragazza che mi pianifica le uscite e le varie come possiamo dire le varie giornate di lavoro di youtube e niente mi sta costringendo oggi a registrare questo video nel frattempo sotto si sta renderizzando un altro video un ulteriore video di fallout 4 quindi ho fatto un paio di impostazioni varie e come potete vedere in basso a destra adesso non gioco con la tastiera ma gioco con il pad dell'xbox 360 perché io volevo giocare con lo steam controller l'avevo comprato per giocarci a the witcher 3 invece avendo il gioco su gog non posso utilizzare lo steam controller perché la visuale non si muove pratica cioè o si muove la visuale non si muove il personaggio ecco e quindi sto utilizzando questo speriamo di trovarci bene perché i tasti sono quelli che sono quindi mi scuso prima di tutto se sbaglierò però è così allora dopo questa premessa vediamo le missioni siamo rimaste che dobbiamo cercare siri e abbiamo letto le signore del bosco siamo appena usciti dalla come avete visto nell'ultimo video di the witcher 3 che ho pubblicato oltretutto poco tempo fa siamo usciti dalla grotta delle catacombe dove abbiamo sfidato uno dei signori della caccia selvaggia con keira metz e quindi non ci resta nient'altro da fare che cercare le megere nella palude del gobbo quindi le informazioni trovate a casa di hendrick che se vi ricordate quella quella spia diciamo così nilfgardiana sostenevano che fosse stata catturata siri da un cioè sarebbe fosse entrata in conflitto siri con una megera con una strega comunque e gerald pensando che fosse che i ramezi andate a trovarle poi hanno fatto la parte delle catacombe invece hanno letto ha letto le signore del bosco che sarebbero tre streghe che se non erro hanno un occhio solo tipo e comunque dobbiamo cercarle usa i sensi da witcher per trovare l'altare da cui iniziare la pista di dolce cerca le megera nella palude del gobbo quindi vediamo ah due voce vedete cioè hanno messo ah eccolo qua vai rutilia rutilia ok vediamo come si sale così ok ciao alfing allora mentre ci facciamo questi questi non ve li velocizzerò quindi facciamoci intanto per stare a fare due chiacchiere insieme ecco sapevo io e che cosa c'è lupi cosa ci sono no sono delle ok non mi ricordo manco come si smonta la cavallo no si smonta ok così vediamo facciamo un primo combattimento allora ok come si lancia il segno ah il segno così e come si combatte così ok cos'è sto cos'è sto cosa dovrei farlo saltare ok cos'è sto cosa distruggi ah ok no 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 preciso ok vediamo questa lo schiva ok mmm come cambio il bersaglio lo cambio mmm non so come cambiare bersaglio voglio chiappa te oh oh avvelenamento ok oh oh rucci no minchia ok no non so come cambiare allora proviamo a fare così no così no ok ok quasi morto quasi morto quasi morte ok ok dovete ricordarvi che prima giocavo con la tastiera era tutta un'altra cosa no 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 ok oh ok consumabili non me lo ricordo allora sta mangiando un consumabile si ok che appareste mazzarelleri no cacchio no 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 si è incastrato si è incastrato no 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 voglio porca trota si è incastrato vicino ad un albero che palle voglio mannaggia quando cambi sistema di controllo ehi porca merda mannaggia adesso si inizia a mangiare non mi ricordavo che era così difficile minchia neanche i super mutanti supremi sono così difficili ruc dai riattiviamo la missione quello le signore del bosco ok ruc mannaggia a te ruc ok rutilia ah sei qua dai oh ok come on ruc dai vabbè sto giro tagliamo per i campi adesso viene pure a piovere comunque è fantastico The Witcher 3 non c'è niente da dire ambientazioni eh fantastiche vediamo qui che cosa c'è lì che cosa c'è un cervo vai tranquilli è un cervo che era è un cervo è un cervo è un cervo nanana nanana lì ci sono le qui che caccia c'è qui che caccia c'è soldati soldati vabbè allora qui c'è una secca no lì ci sono dei banditi voglio ma a noi non ci interessa questa non è una secca però e io come passo siamo in mezzo qua vediamo bandito quindi monta da cavallo ok oh stai esagerando no 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 mannaggia oh ma non mi ricordavo che era così così oh e basta però mancia eh vuol sì grepare no no porca merda e uno e uno è giudo voglio dai corri ecco con i nuovi aggiornamenti hanno introdotto anche le animazioni fatte così per bene fatte proprio allora poi indurito mazza prendiamo tutto qui tutto e lì ha tutto quando inna no ma fanno un sacco di soldi allora rutilia non ho capito ancora dove si passa qua mi sa che si passa run roach come on allora questo è un forziere questo è un forziere dai smonta da cavallo ok allora no 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 rutilia no no stavo scherzando rutilia ho sbagliato tasto mi sa che torno con la tastiera così tanto per come on roach dai che questa mi sa che è una setta lo so la secca è un po' non è distrutto praticamente oh 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 tesoro nascosto necker porca trota quante ce ne sono allora vediamo chiave del tesoro lettera pipa quindi inventario lettera villard vecchio bastardo so dove puoi trovare i soldi per ripagare i tuoi debiti nel velen in giro si dice che quelle paludi valgono meno di una scorreggia ma io non ci credo non si può cavare sangue da una rapa ma un uomo può trovare prede interessanti laggiù e ancor più un nano quindi senti un po' mentre attraverso il velet una settimana fa ho visto dei cadavere dei tizi ben vestiti nella foresta con le loro borse da viaggio ancora intatte rifugiati in una no rifugiati in fuga dalla guerra senza dubbio e chi ci arriva per primo si prende il bottino capisci cosa solo voglio dire prendi un baule attraverso il posto di blocco il ponder ripulisci i cadaveri di anelli collane sono sopra a carico quindi non posso correre hanno messo sta cosa vabbè ma mi sa che c'era pure prima vabbè però non ho trovato il tesoro voglio eh ma lì ci sono i necker però allora smont salva partita dai dai velocissimi necker ricordatevelo no 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 morto preciso necker necker dai questo è diverso no 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 mutagene mutagene artiglio di necker tutto allora mutagene allora ok cerchiamo dove dove hanno seppellito il tesoro eccolo qua mi sa che è qua esatto ok 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 preciso voglio allora abbiamo trovato il tesoro del tipo quindi ce l'abbiamo fatto ci manca un ultimo necker e poi ce l'andiamo di là preciso ok allora vediamo di quanto siamo sovraccarichi inventario tipo io direi che questo qui possiamo buttarlo lascia questo lascia questo lascia non sono più sovraccarico ok vediamo questo ok questo è nuovo questo è nuovo potenziamento senza ridere un alloggio vuoto di un pezzo di equipaggiamento le migliori caratteristiche le migliori caratteristiche axi più 2 vabbè la pipa si può vendere mercanti qui qui ho trovato una marea di cose ok a posto basta che adesso posso correre che poi non frega niente diamo pure scusate un'altra salvata ok andiamo verso ste signore del bosco qua questi saranno banditi sicuro no no soldati va dove si entra bello eh lo vicine andiamo va ok 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 è lontanino 1300 passi ok no 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 stavo scherzando stavo scherzando stavo scherzando potevamo usare il viaggio rapido però devo prendere un po' di confidenza con i controlli quindi scusatemi se stiamo facendo tutti ste giri e comunque vi stavo dicendo che devo continuare a giocare a the witcher 3 perché a parte che ho comprato il mio computer apposta per the witcher 3 e non capisco perché non dovrei giocarci quello lì che cos'è oh porca merda andiamo di qua va avete visto ma quello mi stava che cacchio mi ha fucilato praticamente non mi ha lanciato una lancia eh meno male che hai capito dovevi rapusare la spada dovrò attraversare quel ponte certo ok non cadere io do la tempra ok qui altri banditi no cosa c'è là non so ah si qua sicuramente ci sono banditi o qualcosa del genere o lupi magari queste zone così solo quelli ci sono eia allora lurch si chiama a sto posto e qui c'è anche una missione da prendere io la prenderei eh vediamo parliamo con questo ah bandito abbiamo trovato dei maiali e ne abbiamo arrostito uno venati voi su a dietro a per parliamo carri 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 ho arrestato iagoda quel bastardo l'hanno cucinata dobbiamo pensare caius prendiamo lasciatelo in pace o ve ne pentirete nessuno può darci un rino è dos ragazzi dai bello secondo me uno è morto questo è l'altro pure preciso vediamo che cosa mi dice niente niente era la moglie una maiala l'hanno arrostita amai molto quel maiala chi sei Geralt of Rivia io sono ionko ecco di queste parti perché non c'è nessun altro Flap e Hager e Babel ma Klaus e Igor sono scomparsi magia del maiale certo guarda tu stessi devo seguire devo seguire questo io volevo prendere prima la roba che c'avevano questi adesso non posso correre sono sopra a car no ok vabbè oh socca muoviti vabbè ma dove si guardano sti maiali bello splash 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 questo secondo me è sham vabbè vabbò fa un modo io me ne vado Rodilia torneremo poi a a vedere i maiali ok no devo andare di qua ok oh ma l'alberi oh ma pendini mi stessi scena questo è lo spazio ma vabbè comunque la bussola non l'hanno migliorata la bussola era una merda è rimasta una merda No Morto Sì ma a capo quanti ce ne sono di Necker Ma facciamo una cosa Diamogli una salvata Ok Qui c'è un altro Necker No Sì sì vabbè Ciao Castrato Oh Eh no 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 Vabbè ciao belli Sire vai Allora Dai che manca poco Grotta dell'ammazzadraghi Interessante Interessante pure che a Ruccio non cammina dove ero io Oh Ruccio E che cacchio Vabbè Ruccio Senti Ma la faccio appare Faccio prima Allora Manca poco Sta zona non è piena di nemici Di più Eh manca veramente poco Lì c'è pure il no drago Veramente E quindi io direi che di là Non ci passano E manco si me fanno Poi accire Eh perché non Non ne sono in grado Allora Ma Stemeggere Dov'è che sono Ah ok L'ho trovato Voglio Eccole qua Esamina Ah sono tutti i dolcetti Eccetera eccetera Sulle tette di una statua Vermi Regis Tipo Anzelle e Grete Per capirci Ok Usi i sensi da Witcher Per seguire la pista dei dolci Scusate Ah ok Ah sti cose Sì i dolci Allora Ok Dolci 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 Tanti dolci Tutti dolci Ok Eh portano da qualche parte Sti dolci o no Ok Ok Geralt Super Super Detective Con le Spade Che da la caccia Le Meggere Eccole No Non lo so Eh ho detto così Entrato in cucina Ha rubato Il cuoco Gli ha dato una bella ripassata E poi l'ha legato per i piedi Poi l'ha dissanguato E l'ha spellato Vedeve Diceva la miglior salsiccia Che abbia mai visto Il cuoco è un assassino Di dadù Chi va a far legna Sei tu Secondo me che si Bella rima Però in italiano Non faccia rima Non ti conosco Vattene Vattene Taglierà la capo Geralt Avete visto una ragazza Dai capelli Sto cercando una strega Che ci fate Nella palote Hai visto una Che ci fate Nella palote C'è la nonna Con la guerra Ci sono un mucchio di orfani Non lo sapevi Ah più sveglio Che quello che sembra Sto bambino No io Witcher E' diverso Si Noi non possiamo La nonna non vuole Zeme che è scomparso La nonna Ha detto che si era perso Nel bosco Ha pianto tanto poi Vabbè Vabbè I capelli di biondo Cenerano una cicatrice Sul volo Non ci sono ragazze E io cosa sono Non sei una ragazza Una ragazza hanno le tette E' vero Una volta ho sentito Un vecchio che diceva Quanti ci sono i soldati Bisogna nascondere la ragazza nel bosco Perché se no Gli aizzano gli uomini Con le loro tette Ha detto proprio così Ehm Ok Ok strega e ti prendi curare i ragazzini il campionista ma anche in città si è finito di rimo scuola scuola ma l'amore se una strega un po' di città il gruppo bucci non è niente scopo e gubio e verruche sul naso Ho un bel naso, non vedi In effetti signora A parte il resto, il naso è bello Eh, i bambini sono così dolci Secondo me se li mangia lei Chi è Johnny? Ha mangiato un gatto intero E ha fatto la cacca solo di te Moda dei linguaggi Superone Vabbè Mia figlia La mia figlioletta La mia figlioletta La mia figlioletta Ah che Parlate Vi prego aiutatemi A bit of help please A bit of help please A young ashen haired woman Just need to know if you see her What are you looking at children? What she wants to go and catch crickets? I won't learn anything from you Ah Già, non sappiamo niente Johnny knows Io dico che Johnny sa qualcosa Son tante cose gli faccio una domanda Mi scogli aspetta Mi gratti il culo e ti dico tutto Ah 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 Nella capanna le stelle nell'angolo ti controllerà Eh eh Non si dicono le parolacce Ti con Ti con Vabbè Ditemi dove è sto Johnny Che andiamo a chiederglielo Scusatemi Eh Raggiungi la capanna e parla con il bambino Da Nanana E' aperta? Buonjour madame Je suis un cavalier Va Can't come in here Non puoi entrare Non te lo permetto I just want to talk to the boy Devo parlare con i ragazzini Non puoi It's not allowed Ah no Non puoi parlare con i ragazzini Gran non ti piace E Johnny ha fatto E E Stranger steel kids Ah Just tell me where I can find Johnny Johnny ha fatto Picon Picon Ok Why don't you want to talk about Johnny? One of you knows about him The others must too It's just emus pals with Johnny It's just emus pals with Johnny With mushrooms And hunt snails But Grant says Johnny's made up The girl I mentioned is in danger You gotta help me get your grand away from the hut So I can talk Vediamo se me li convinco va Ok Ok Eh Let's play You hide But if I find you You have to help me talk to the boy You know Giovan nascondino con Geralt He thinks he'll find us easy Means he's nearer than the black ones No looking And you have to count out loud All your fingers Toes too Mm One Two Three Eighteen Nineteen Twenty 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 Eh mo You're not Here I come Mo Come etro Sti voglio uncied Allora non dirmi che è qui dentro uno ti ho visto vieni fuori è uno forse solo uno ne devo trovare ok eh perché non ci parla insieme no li devo trovare tutti vabbè vediamo dove sono tracce la giocca ma anche la dovevo scoprire ti ho visto eh si 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 ti ho trovata bella bella di padella e uno è qua vai tu facci le merda e zonbato pa la funestra ma ha fatto fessa sto giro ok eh si volevi vincere ma mi sa che ha perso ma ne devo trovare altri no ma vai erano tre tipo basta giusto proviamo no quattro erano si ma i sensi da witcher funzionano poco che era per trovare quattro criatori non ci sta mettendo un'eternità non puoi farlo adesso ah vabbè poi ci morò allora eccole qua le tracce le tracce dove vanno qui dietro dai eccolo ok no andiamo in scena va ha vinto lei ok secondo me faranno allontanare la nonna eh teneno fantasia sti criatori che era che era Grazie a tutti. La mamma chiede a me, ha detto non parlare con gli strani, perché i figli si vanno a perdere. La mamma anche preoccupa di Johnny, ma dice che è diventato. Che sei da voi e i amici? Mentre sono morti, altri sono morti, come la mia. La mamma chiede a me, la mamma chiede. Eh, bravo che era. Perché esiste davvero, non l'ho inventato. Eh, basta che te muovi, che a me ha finito video. Ok. Ma secondo me, allora è tipo un folletto delle paludi. Ah. Uno strano arte, cercali attorno e lo troverai, va bene. Allora è una cosa le soldi, che era? Ah già, non ne tieni. Ah ah ah. Va bene, quindi, usa i sensi da Witcher per cercare Johnny. Wallyu, noi ci salutiamo qua con questo tempo infame che è in queste paludi, che c'è in queste paludi. E ci diamo appuntamento al prossimo episodio con The Witcher 3. Ciao Wallyu, alla prossima. Ciao. Ciao. Ciao.